Dino Mastrocola, prorettore vicario e ordinario della Facoltà di Agraria, è il nuovo rettore dell'Università di Teramo. Succede a Luciano D'Amico e rimarrà in carica per sei anni accademici, fino al 2023. Mastrocola ha ottenuto 262 preferenze, superando il candidato Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale, che ne ha incassate 202. Commosso per il risultato il nuovo rettore Mastrocola, è felice l'uscente D'Amico, che assicura che resterà ad insegnare nell'Ateneo Teramano un cambio al vertice, ma sulla stessa linea d'onda. Nel segno della continuità, ma sicuramente con qualche novità. Certo, in questi mesi ho ripetuto spesso che non si può parlare né di continuità né di innovazione, ma mi piace parlare di continuare ad innovare. Penso di impostare tutto il mio futuro rettorato in questo modo. Il solco tracciato da Luciano D'Amico è un solco importantissimo. Basti pensare che cosa era l'Università di Teramo a fine 2012, che cos'è l'Università di Teramo adesso, quindi con un ruolo importantissimo nella città, in regione e anche a livello nazionale e internazionale. Lei gestirà anche la ristrutturazione dell'ex manicomio? L'operazione ex manicomio è un'operazione che solo pensarci sembra una montagna che non si possa scalare. Invece è un progetto ambizioso, ma è un progetto che ci porterà a tornare nel centro della città, a creare, come ha sempre detto Luciano D'Amico, una cittadella della cultura, che non sarà solo la sede di un corso di laurea, di una facoltà, ma sarà il cuore pulsante culturale della città. E quindi non si può dire all'Ateneo non dovete gestire gli spazi come se fossero solo vostri, perché l'Ateneo gestirà quegli spazi come ha sempre fatto, come servizio per i propri studenti, per i propri docenti, per il proprio personale, ma anche e soprattutto per la città.